Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Mondin, sono socio della cooperativa di Casa di Biella. Con la segheria Valle Sacra del Canavese e la cooperativa Valle Unite abbiamo dato l'idea al progetto Si parte dal Bosco. Ad oggi è un'organizzazione di filiera che tende a diventare una rete d'impresa, un marchio aperto, non un marchio che vuole essere chiuso a una crescita di una comunità popolare del Bosco. Le principali attività partono dal Bosco, dalla gestione forestale alla trasformazione del materiale a tutte le attività che riguardano l'ambito dell'abitare, perché noi ci occupiamo di edilizia. Abbiamo scelto di partecipare al premio Comunità Forestali Sostenibili perché alla base della nostra azione c'è una volontà di divulgazione del progetto Si parte dal Bosco, non nel pensare che il nostro progetto sia meglio di altri, ma perché abbiamo fame di scambio, di opportunità di incontrare delle esperienze simili o diverse dalle nostre da cui apprendere. Attivi per il futuro principale della rete Si parte dal Bosco si fondano in un'innovazione che io dico esalta il passato, che è quello di continuare ad adoperarci per creare tecnologia su sistemi che oggi le piccole aziende sparse sul territorio hanno. Penso che il messaggio importante che vorremmo donare agli altri direi che si esprime bene nell'area geografica in cui noi operiamo, che è la storia dei Livetti e della comunità olivettiana. È un esempio di una comunità non chiusa, di una comunità che tendeva la mano verso tutti nella valorizzazione della dignità dell'individuo per provare il più possibile ad innalzare qual era poi il livello della qualità sociale. Tutti abbiamo contribuito a far parte di questo sistema qua, a diventare praticamente la comunità che siamo diventati e quindi questo momento storico è un momento eccezionale dal punto di vista invece non di cancellare i propri principi per riuscire a sviluppare dei mercati e riuscire a sviluppare una conoscenza da parte delle persone che partecipano alla nostra attività per creare un'occupazione adeguata al mondo di oggi. Questo per noi è un obiettivo direi primario.